Tu hai introdotto un tema caldissimo, perché veramente ci troviamo in una situazione di insostenibilità e questo lo dico nei confronti sia delle famiglie che delle imprese, ma imprese anche il commerciante, perché parliamoci chiaro... Ma poi le imprese sono le famiglie, perché questa che è una piccola impresa di comunicazione ha qui comunque decine di famiglie e quindi adesso noi ci troviamo in serissime difficoltà perché senza alcun preavviso, che poi non dovrebbe esserci neanche un preavviso, cioè noi che abbiamo fatto un contratto con lo Stato già 40 anni fa, un contratto dove prevede che lo Stato deve tutelare, voglio dire noi eleggiamo i nostri rappresentanti è proprio per tutelarci, per amministrare la cosa pubblica, un po' come una società, tu sei un economista, una società elegge un consiglio di amministrazione o un amministratore... Ma il concetto di Stato nasce proprio per questo, perché c'è uno Stato, un'organizzazione a tutela di tutti quanti i soggetti che fanno parte di questo Stato. E lo Stato dovrebbe, soprattutto sui beni di prima necessità, tutelare il cittadino. L'energia è un bene ormai di prima necessità, senza riscaldarsi. Noi una volta eravamo organizzati perché c'erano le cose, come si dice, c'era il boscaiolo, e si è andato a fare la legna, le fascine, e c'erano le stufe con la legna, in casa... No, però è stato parlato di un'altra epoca, dai. E certo, quindi il bene primario dell'epoca era quello. Oggi il bene primario è l'energia elettrica, il gas, per riscaldarci, per l'energia che serve, per vivere, per vivere all'interno di una società. Quindi quello è un bene primario essenziale. L'acqua idem. I beni primari essenziali, noi abbiamo sempre, ci hanno insegnato fin da bambini, caro Antonio, perché noi siamo quasi coetanei, quindi ci hanno insegnato a bambini... Io sono molto più vecchio, non è vero. Ma no, sei un pochino, qualche anno di più, dai, qualche anno di più di meno. Però ci hanno insegnato alle scuole, soprattutto nell'educazione civica, che i beni di primaria importanza sono erogati dallo Stato, perché lo Stato non ci guadagna, non deve guadagnarci. È un servizio. Non ci può e non ci deve essere la speculazione sul bene primario, perché è un servizio essenziale per il cittadino. Perché è un servizio essenziale. Essendo un servizio essenziale per la sopravvivenza del cittadino, lo Stato, ovvero quelle persone che vengono delegate dai cittadini ad amministrare le cose di utilità pubblica... La res pubblica. La res pubblica non dovrebbe, anzi, non deve essere oggetto di speculazione. Anzi, chi viene eletto dovrebbe contribuire a lavorare per far sì che quel prodotto utile, essenziale, costi il meno possibile... Peccato. Scusami, se non addirittura zero, perché l'acqua tempo fa costava zero ai cittadini, perché era un servizio ricompreso nella tassazione generale. Ok? Quindi l'acqua era zero. L'energia per un periodo è stata anche così, l'energia elettrica. Poi il gas addirittura costava una stupidaggine. Cioè ci hanno indotto a mettere tutti quanti a casa il gas perché costava nulla, poco nulla. Ecco, però, come tutte le cose, ci hanno proprio fregato. Perché poi tutto quello che noi, con i nostri soldi, delle tasse dei nostri genitori, dei nonni e nostri, abbiamo creato la rete, la rete del gas, la rete dell'elettricità, la rete dove privatizzare è bello, c'è la concorrenza, allora pagheremo di meno. Non è vero. Perché bisogna remunerare il capitale, spesso e volentieri, società quotate in borsa. E allora, se io investo in borsa, voglio essere remunerato. Però che senso ha a questo punto? Pensate che i francesi, sto parlando dei francesi, che perlomeno passano non per sovranisti, non per nazionalisti, sto chiaramente facendo una battuta, però formalmente no, anzi sono i bravi, eccetera. La loro società, paragonabile, assimilabile, la nostra Enel, che era stata anche quella, diciamo, immessa sul mercato, quindi con nazionisti privati, Macron, che ripeto, non è sovranista, non è nazionalista, ha annunciato che se la stanno ricomprando lo Stato, perché è un servizio pubblico. Ecco, allora dico, ma come? Hanno ammesso di aver fatto un enorme errore, perché anche loro si trovano nelle condizioni di, come noi, nonostante loro abbiano una fortissima percentuale di produzione di energia elettrica con il nucleare, compriamo anche noi. Ricordo che solo in Francia ci sono 58 reattori nucleari, ecco, quindi attaccati al portone di casa. Poi una centrale ne ha due, tre, quattro. Sì, esatto. Però, però... Attaccati al portone di casa nostra. Nostra, esatto. Non è che se succede un incidente a Nizza, noi ne siamo esenti. No, è come averla sul pianerotto di casa. Certo. Esatto. Non l'abbiamo voluta nel nostro pianerotto. Però sono questioni di principio, eh. Sì, ma... Anche se non possiamo farci nulla... Francesco, con la Francia, con l'altra, con la Francia... Ma io col principio non mangio. Non si mangia col principio. No, io dico il fatto che siano alle porte di casa. Eh beh, non possiamo farci nulla. Sì, ma glielo compriamo. Noi lo compriamo anche con maggiorazione del prezzo. Sì, sì, sì. Ecco, allora tanto vale. Fora un altro ricordo che non... Vale la pena ricordare che ci vogliono 15 anni però per tirare su una centrale nucleare. Sette. Sette. Sette anni. Sette, però se non si comincia mai, sette anni sono sette mila anni, capito? Se non si comincia mai. Però, quello che possiamo fare oggi, perché l'importante è che le bollette bisogna andarle a pagare. Ecco, allora, giustamente gli italiani dicono, io ho un dilemma. Mangio o pago le bollette, ovvero pago i miei dipendenti o pago le bollette. Questo è il dilemma in questo momento. Allora, si stanno ora pagando gli errori fatti nel passato. Perché la nostra politica di approvvigionamento energetico del passato è stata fallimentare. Non lo dico io che sono, come dico sempre, l'ultima ruota del carro, ma credo che ormai l'abbiano capito tutto. Tutti lo stanno dicendo tutti. Noi ci siamo troppo legati a dei fornitori e ci siamo messi consegnati completamente nelle loro mani. Avremmo dovuto diversificare con altri paesi, avremmo dovuto continuare anche l'estrazione sul nostro territorio nazionale. Vi ricordo che a oggi noi abbiamo 752 pozzi di gas inattivi. Significa pozzi che già esistono e il rubinetto è stato chiuso. Questo si sappia. Fra l'altro c'è anche il fatto paradossale che nell'Alta Adriatico noi abbiamo i pozzi chiusi quando invece i nostri dirimpetai, cioè la Croazia, hanno dei pozzi che utilizzano lo stesso giacimento e ce lo rivendono pure a noi. A Roma si dice cornuti e mazziati. Allora, o si prende il toro per le corna e anche velocemente, perché gran parte di questi pozzi nel giro di qualche mese di manutenzione possono essere, possono ritornare attivi, perché in questo momento sono non attivi. Ma la considerazione è questa. Si parla tanto del tetto massimo, questo pre-scap. Allora, l'Unione Europea sono mesi e mesi e non riesce a formulare un sistema per poter rendere un tetto massimo all'energia. Lo vedete, no? Se ne sta parlando da primavera. Non sono usciti. Perché? Perché è estremamente difficile, tecnicamente. Come è possibile mettere un tetto massimo? Cioè, noi siamo compratori. Il coltello dalla parte del manico ce l'ha il venditore. Perché lui dice, ah, siccome nel mondo lo riesco tranquillamente a vendere ad altri, ad esempio la Russia lo vende alla Cina, dice, se tu mi metti un tetto, non so, a 100 euro a megavattore, io c'ho gli altri, ma non lo pagano di più, ciao, chiudo a te e apro il rubinetto agli altri. Quindi non otteniamo. Un sistema, e credo... Allora, scusami Antonio se ti interrompo. C'è questa cosa che tu hai detto ora. Tu sei non solo un economista validissimo. Ci provo. Sì, sei anche un deputato europeo. Sì. Sei una persona che ha una certa esperienza in materia. Sì. Hai lavorato. Alleni. Anche alleni. Esatto. Benissimo. Quindi tu sai, ma questo che tu hai detto poco fa, lo aveva capito anche la signora Maria di fronte a casa mia. Certo. Cioè, che noi stavamo in qualche modo finendo addosso a un muro a 300 all'ora, lo sapeva anche una persona comune come me, come Francesco, come noi, che noi facciamo, anzi, noi facendo questo mestiere tendiamo più a dover essere informati. Ma la signora Maria di fronte a casa mia lo sapeva, diceva, ma scusa, ma noi prima avevamo una sorta di, non dico autarchia, che sembra una parolaccia, ma in realtà è una cosa giusta, perché quando tu poi sei indipendente, al tavolo delle trattative con gli altri paesi, ti siedi senza fare la figura di quello che comunque può essere dominato in qualche modo. Se hai un minimo di autonomia, no? Se hai un minimo di autonomia. Posso ricordare un episodio che mi sta molto a cuore? Sì. Nel 1959, pensa quanti anni sono passati, l'Eni di Enrico Mattei, e quando pronuncio questo nome io mi metto in piedi. Sì, sì, ecco. Non posso fare a meno di mettermi in piedi quando pronuncio il nome di Enrico Mattei, abbassò all'improvviso, attenzione, il prezzo della benzina da 90 lire, al litro, del 5,85%, in maniera autonoma, all'improvviso, e contribuì al rilancio economico del paese. Cioè il miracolo economico lo dobbiamo anche al basso prezzo dell'energia, perché riuscì a diversificare le fonti di approvvigionamento italiane. Poi però il suo euro è caduto. Il suo euro è caduto. È anche vero che io considero Mattei, anche qui mi dovrei rialzare in piedi, il più grande italiano dopo Giulio Cesare, diciamo gli altri sono molto lontani. Molte persone, compreso chi ti sta parlando, condividono perché se leggi cosa ha fatto Mattei... Gli dobbiamo non molto, moltissimo. Molto di più. Molto di più. Mi rendo perfettamente conto che i tempi sono estremamente cambiati perché sono passati più di 60 anni. Ma in peggio però. però è anche vero che noi ci stiamo facendo male da soli. Perché? Perché noi ci stiamo lamentando di queste bollette insostenibili, perché vi posso garantire che tecnicamente sono insostenibili. Non si possono sostenere. Non si possono pagare. Non si possono pagare. Le aziende chiudono. O paghi le bollette. Noi qua dobbiamo trovare una soluzione. Non sono più competitive. Perché chiaramente sono le cose cinque volte tanto. Allora qui c'è una soluzione che poi alla fine in qualche modo si troverà, però sono sempre soluzioni che non ti consentono la linearità. Ma l'energia rappresenta ormai una voce estremamente alta nel prezzo di produzione. Cioè il prezzo finale di qualsiasi cosa che noi compriamo c'è dentro la componente del prezzo di energia che paghiamo noi. Non dovrebbe esserci. Perché gli stati dovrebbero preoccuparsi di generare l'energia per le aziende e le famiglie del proprio paese. E poi l'Italia, scusami, l'Italia ha la possibilità di farlo. L'Italia è il paese del sole, del vento, del gas, dell'idroelettrico. Quindi noi abbiamo praticamente tutta la possibilità per essere autonomi. Abbiamo rinunciato al nucleare? Puttanata, immane. 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 Perché per dare retta alla solito... O rinunciamo tutti, è un discorso. Ma chi vuole rinunciare poteva pure andarsene, che ne so, in un paese dove si vive in un altro modo. Ma se vuoi stare qui e vivere con le autostrade, con le auto, con i cellulari... È il prezzo da pagare, si dice. Devi pagare un prezzo. Che poi quale prezzo paghi? Voglio dire qui è chiaro che centrali tra l'altro di nuova generazione avrebbero avuto una sicurezza totalmente differente. Considere, noi stiamo comprando adesso da centrali fatte 40 anni fa. Noi oggi avremo la possibilità di mettere in atto centrali di ultimissima generazione. E ricordo che gli ingegneri nucleari italiani erano i migliori del mondo e per lavorare sono dovuti andare all'estero. Ce ne siamo spossessati. Noi stiamo qua a fare figura dei tonni proprio. Dei fessi. Dei fessi. Allora, cosa si può fare adesso? Adesso c'è una speculazione, diciamolo, fortissima. E mi meraviglio come le autorità, a iniziare da quelle europee, io gli ho lo strillo ogni giorno, non prendano provvedimenti. Andiamo nel pratico, perché a me piace andare nel pratico, non parlare. Certo. No, no, poi arriviamo al problema. Allora, il prezzo del gas è incredibilmente fissato in maniera estremamente opaca, e dirò i dettagli, alla borsa di Amsterdam, nei Paesi Bassi, il famoso TTF, dove a fronte di modestissimi scambi, ieri sono stati scambiati 20 contratti, cioè 20 operazioni solamente, con delle quantità bassissime, influenzano il prezzo di tutto il gas scambiato in Europa da parte dei gestori. Guarda, questa cosa qua... Ed è una schifezza.